Mi chiamo Francesco Balducci, sono un medico, mi occupo di medicina preventiva, predittiva, rigenerativa, quella che viene anche definita medicina funzionale, che è poi la vera medicina ipocratica, tradizionale, medicina epigenetica, perché vuole studiare le interazioni della nostra genetica, quindi del nostro DNA, anche con l'ambiente, perché io definisco l'invecchiamento come una progressiva possibilità ad adattarsi agli stimoli ambientali. Insisterò molto sull'attività fisica, che viene spesso nominata ma mai valorizzata come dovrebbe, che rappresenta invece uno dei pilastri fondamentali della piramide del benessere, della salute, della giovinezza prolungata e della longevità atletica. Tutti questi concetti verranno ribaditi durante il corso della scuola di medicina epigenetica, alla quale io vi invito calorosamente a partecipare, dove insieme ad illustri colleghi tratteremo tutti gli argomenti proprio della medicina funzionali. Quindi verranno trattati la dieta secondo natura, la nutraceutica, l'attività fisica, l'integrazione specifica personalizzata con basi di biochimica, ma soprattutto anche con un indirizzo pratico, perché poi bisogna fornire gli strumenti, le strategie per dare vita agli anni più che anni alla vita. A noi non interessa tanto arrivare a 100, 120 anni, ma arrivare all'ultimo dei nostri giorni nella piena efficienza fisica e mentale. Ecco perché io vi invito a partecipare a questa scuola. Grazie.